Sì, signore, sono qui! Fate l'unisono! Scusa, facciamo soltanto le prime due, va bene? Solo le prime due. In Grecia, se no, dopo... vai! Allora, zio! Vai, oh! Tutti! Zio! Signore, sono qui! Crediti ancora sì! Luce, fammi scoppiare di noia di vivere! Luce, fammi strumento per portare intorno a me! Luce, che ti è vicino a me, si affaccia tutto in te! Luce, qui, per dirti ancora sì! Luce, che ti è vicino a me, si affaccia tutto in te! Non ti sognare di noia di vivere! Sceppa la prima, la prima! Luce, sono qui per dirti ancora sì! No, scusate, sempre solo la prima, se no non si incastra bene. Signore, sono qui per dire ancora sì luce, però no questa. Sì, dopo si riempia e si rifà il tornello normale, se ho capito. Se rifà, se fa un giro normale di tornello, in modo perché si stocca, spetendo soltanto signore, sono qui per dire ancora sì luce, ok? Si fa un po' questo, qua si rifà il tornello normale, va bene? Vai, facciamo subito la sdoppiata. Signore, signore, sono qui per dire ancora sì, signore, sono qui per dire ancora sì, ok? Signore, sono qui per dire ancora sì, signore, sono qui per dire ancora sì. Signore, 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 sign Direi che basta, no? A un certo punto si fa questo cambio qui, non è semplice, si fa soltanto... Due ore per provarli. Soltanto un intreccio di queste voci della prima frase e poi si riprende il normale. Quando si riprende, Silvia, io farei... Ti piace questa cosa? Sì, mi piace. Io farei l'accompagnamento normale. Va bene. Allora riprogrammo solo questo un attimo. Ciao, ciao. Ti imposto dare che ha... Sì, normale, accompagnamento normale. Allora facciamo ritornello, ritornello, poi lo stoppiamo e poi ripartiamo su un attimo. Vai. Sì, oh, signore. Sono qui per dirti ancora sì. Luce, forti scontore, di gioia di vivere. 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 Tutto c'è, senza scontare l'innoia di me. Tutto c'è, nel antico del nome, portare un luogo a me. Tutto c'è, nel piedi vicino a me, saurete tutto in me. Tutto c'è, nel luogo a me.